I carabinieri della stazione di Niscemi, nel primo pomeriggio del 17 gennaio, hanno tratto in arresto un 26enne residente a Niscemi. Durante l'operazione di servizio finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi di droga, di cui una parte del tipo hashish e una parte del tipo marijuana. Sono stati posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e del denaro, incondante ritenuto provendo illecito dell'attività di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela, l'indagato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Nella mattina del 20 gennaio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Grazie. 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 Grazie.